capitolo primo con il ganto e la volpe focus luca pompei ben trovato nel nostro spazio è un piacere averti qui un piacere mio marco e anche intervistati perché di solito insomma è la prima volta abbiamo lavorato insieme diversi anni fa linea sport esperienza magnifica ti ringrazio ti occupavi di calcio in quel periodo ora ti occupi della cronaca per rete 8 quindi sei tra l'altro un volto e una voce e conosciuta ma qui qui non sei come come giornalista ma come scrittore per me è stato una sorpresa una piacevole sorpresa devo devo dire leggerti come gli alberi spogliati ad aprile intanto è la tua prima opera o hai scritto anche altre altre cose altri libri il mio secondo romanzo io già in passato aveva scritto un libro di racconti poi scritto alcuni monologhi teatrali per ammilo vallone un attore regista pescherese e è un primo romanzo nel 2016 un thriller mi sono ritrovato a scrivere questo secondo romanzo frutto di un'esperienza abbastanza forte se vogliamo un po per motivi professionali un po anche per motivi personali e cioè il terremoto dell'aquila c e della storia di un borgo alle porte dell'aquila casentino che è una frazione di santa usenio forconese e della storia appunto di questo borgo completamente distrutto dal terremoto e soprattutto dei suoi abitanti quasi tutti anziani che si ritrovano a guardare un futuro con estrema preoccupazione ansia perché forse a rendersi conto di non avere un futuro è quello il problema infatti molti mi dicevano ci stanno ricostruendo le case ma chissà se possiamo mai andarci a vivere perché insomma abbiamo una certa età in realtà il titolo il titolo parte da da un'impressione che mi ha colpito proprio la mattina del 6 aprile del 2009 quando sono andato all'aquila con la truppa a documentare quanto stava accadendo tu già stavi lì al tempo c'era la vides infatti ci sentivamo all'epoca perché fornivi materiale importantissimo e fondamentale per l'informazione e niente sulla statale probabilmente non so se ci avrai fatto caso anche tu sono rimasto colpito da questi alberi completamente spogli tanta forte era stata la scossa che questi alberi erano caduti rami foglie frutti per cui sembrava di vedere delle degli alberi in autunno in realtà eravamo d'aprile quindi non era autunno e quindi è un'immagine forte che mi son portato dietro e quando qualche anno dopo ho avuto modo di conoscere queste persone mi è tornata subito la mente questa immagine perché in qualche modo anche loro sono un po' come alberi spogliati e si rende molto l'idea infatti questo titolo è proprio a sé caso e si perché sono persone che non hanno più nulla che non hanno un futuro si interrogano sul futuro però stanno lì come gli alberi come gli alberi rimangono fieramente in piedi avrebbero la possibilità magari di andare a vivere chi da qualche figlio in qualche città grande come pescara l'aquila anche roma però loro da lì non si vogliono muovere perché sono fortemente attaccati alle proprie radici con grande dignità ed è quella che un po' ha colpito me e da qui l'idea di raccontare la loro storia con anche un elemento di finzione per rendere insomma un po' il romanzo ancora più accattivante ed è questa un po' più o meno la storia di questo libro che sta avendo sta ricevendo molti consensi sono molto contento di questo hai vinto anche qualche premio mi sembra di aver letto da qualche parte o hai partecipato ho partecipato a un premio ma ho ricevuto gli attestati di stima da parte di tutti i giurati però però sei all'inizio c'è ancora tempo sei giovane per vincere i premi più che premi a me ha fatto ancora più piacere un attestato di stima particolare che è quello di Giustino Parisse che conosciamo tutti certo è giornalista del centro toccato dalla tragedia in maniera pesante pesantissima dalla tragedia che insomma ha voluto leggere questo libro e ha spesso per me parole veramente straordinarie è voluto essere presente anche in alcune presentazioni che sto facendo in giro per l'Abruzzo insomma il suo attestato di stima è un po' come un premio campiello per me ma senti ma da grande cosa vuoi fare lo scrittore? ti piacerebbe? ti piacerebbe? no vorrei andare in pensione da grande che vuoi fare da grande? voglio andare in pensione perché ci siamo quasi ormai purtroppo manca ci manca no vabbè la scrittura è stata sempre un po' la mia passione una passione declinata ovviamente con il giornalismo ho avuto la possibilità insomma di di fare questa professione che amo e ovviamente parlando di passione per la scrittura è chiaro che viene in mente anche il discorso dei libri e dei romanzi quando mi capita metto lì e scrivo e se viene fuori qualcosa di interessante approfondisco altrimenti senti ma preferisci più scrivere una pagina del tuo libro o scrivere un pezzo di cronaca? beh no ci sono ci sono fatti di cronaca che comunque fanno parte un po' della quotidianità per cui ti spingono insomma ad essere lì presente pronto e attento per tutto ciò che accada per cui quella è la in qualche modo la quotidianità la pagina di un libro è un qualcosa che che viene che ti tocca sulla spalla e ti dice guarda io sono qui e facciamo una cosa caro Luca sai i tempi del web sono molto veloci quindi noi ci fermiamo qui per questo primo capitolo ma poi torneremo per affrontare anche il secondo capitolo quindi chiudiamo qui questa prima parte grazie grazie